E' l'appuntamento segnato in rosso sul calendario ai tifosi delle due squadre, la spira che vale una stagione. Spira tutta la seguire qui su EA Sports, ancora pari pazienza e si va. Lucia Sanzino come cantava Vecchioni, eccoli i riflettori sulla scala del calcio, sicuramente tra i palcoscenici più suggestivi al mondo. Ben trovati amici, la parte di Piero Gipardo con me a commentare il match Lele Adani. Torna alla Serie A con questo incontro che promette davvero emozioni e spettacolo. Sono due squadre che puntano a raggiungere la vittoria attraverso il gioco, non dovrebbe mancare lo spettacolo. Ci sono partite e partite, ma quella di oggi secondo me potrebbe regalarci davvero parecchie soddisfazioni. Rispetto a un match giocato viso aperto, con gol da una parte e dall'altra. Niente cartellino, per questa volta l'arbitro ha scelto la via del dialogo. Non era un fallo cattivo, decisione corretta a mio viso Pier, e considerato poi che siamo ancora all'inizio. Vergia ci offre in grafica la formazione titolare del Milan per questo match. Veniamo per la porta, Benasser insieme all'Ottio Cicca a centrocampo, e Giroud unico riferimento davanti. Diamo un'occhiata alla formazione ospite, dietro si è appinta da Jim City, con Colasinaz. Derone insieme a Coupe Miners nella zona centrale del campo. E due punte a cui è affidato il compito di finalizzare la manovra. Ma la gol è importante. Interviene proprio all'ultimo e salva. I flettori puntati sulla prestazione di Leao, la sua straordinaria capacità in progressione. In campo aperto diventa praticamente inarrestabile, se non ricorrendo al fallo. Attenzione quindi ai suoi cambi di passo. Grande risposta del portiere. Innesca l'Ottio Cicca. Possono passare in vantaggio. L'antissimo del portiere, decisivo qui. Brutta gestione del possesso. Calabria. Tocco per Gabbia. Giroud. E il pallone se ne va via. Altro pallone che viene regalato agli avversari. Giroud. Leao. 1-0 Milan. Esultano i tifosi rossoneri. Ha finalizzato l'azione al termine di una serie ubriacante di scambio. La palla che è sparita ed è ricomparsa magicamente in fondo alla rete. Lo possiamo apprezzare meglio da questo replay. Hanno aperto le barcature con questo gol. 1-0. De Rolne. Prova ad affacciarsi davanti. Prova l'imbucata per il combattio. Palla in rete. Ha reagito subito. Trovate il gol. Stiamo rivedendo il gol. Nonostante la marcatura stretta ha trovato lo stesso uno spazio per concludere a rete. Gran gol, davvero. Hanno pareggiato dunque 1-1. 2-2 Matteo Ruggeri. Calabria. Miram Schuylke. La squadra avversaria riconquista il pallone. Ecco De Rolne. Giorgio Scalpini. Jim City. Teon Koppmeiners. Ottima la copertura. Calabria. Calabria. Dialoga con Pulisic. Ecco Pulisic. Ben Nasser. Palla persa. Alzano il pressing. Contrasto efficace. Ci sarà rimessa laterale. La tuscia. A San Siro arriva il testo che chiude la prima parte del match con le squadre che fanno riposarsi. È stato un buon primo tempo quello di Raffaele Au. Vedremo se farà qualcosa di più nella ripresa. Un buon primo tempo il suo come del resto quello di tutta la squadra. Se continuano su questa strada direi che hanno ottime chance di portare a casa il risultato. Il match che è ripreso si riparte dal pareggio con cui si è chiusa la prima metà di gara. Entra con decisione. È il Milan che manovra l'arma del vantaggio. Potenzione interessante. Ecco Pulisic. Attento a quel portiere che dice di no. Gabbia. Scarica su Ternakes. Loftus check. Può essere la rete nel più uno. Entra sulla palla e la fa sua in area di rigore. Milanciocca. Contrasto pulito. Svetta il tentativo avversario. Calabria. Dialoga con Pulisic. Ottimo l'intervento. Recupera il pallone. Innesca l'otto check. Sende Pulisic. Si resta in parità. Provano in possesso palla per far uscire gli avversari. Non può sbagliare. Miracolo del portiere che salva un po' che sembrava già fatto. Non ci credo, Piero. L'intervento va davvero straordinario. Chiusano su situazioni da una parte e dall'altra. Occhio al pallone in mezzo. Evita guai. Ciupo e Z. Non concede nulla all'attaccante. Lugman. Continua ad avanzare. Angolo battuto non bene. Pallone riconquistato. Possibilità. Ciupo e Z. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. C'è spazio per il contropiede. Hanno difeso bene. Qui il tecnico può essere davvero soddisfatto. Resista la pressione degli avversari. Copminers. Decisivo l'intervento del portiere che salva forte il risultato. Visto quanto manca ancora da giocare. Se avessero prego gol. Probabilmente la partita sarebbe finita qui. Piedere. Corner in aria. Iniziativa che non si concretizza. Conclusione murata. Layout. Straordinari tifosi del Milan. Non hanno smesso un attimo di incitare la loro squadra. E chiedono un ultimo sforzo ai giocatori in questo finale per centrare la vittoria. Chiudono in avanti. Vogliono la vittoria. Lecce bene la traiettoria qui. Lukman. Controlla de Keteraner. Ci mette il corpo. Sia tra avanti ancora per un minuto. Pulisic. Sta avanzando. Recuperano bene il possesso qui. Non si fa soltanto. Sarcazzo in angolo per il Milan. Caccia della rete nel portale. Va direttamente in aria. Sabbrava lancerci predupposti interessanti. Come non detto. Inizia il match. Parità al termine dei 90 minuti. Un****.